Ciao a tutti ragazzi bentornati in un mio nuovo video Oggi siamo in compagnia di Coda di lupo che ora cambia il suo nome e si chiama XX Panda Oscura XX Che sarebbe sempre chiara Però no, stranamente non siamo in compagnia di Francia Ma siamo in compagnia di un altro mio amico, Azro Che lo sto chillando E ragazzi oggi faremo io e XXX Panda Oscura contro Contro Azro, perché Azro è fortissimo Visto che me l'avete scritto in tantissimi Di fare altri video insieme a lei Oggi li facciamo Ok iniziamo Eh scusa Ma Ok Allora ragazzi Iniziamo Però non vi posso far sentire la voce, mi dispiace Allora ragazzi Andiamo Ma non ho pensato che era Azro Ragazzi avete visto quanto sono scarso? Ma Si è curato Morto Dai facciamo Iscrivetevi su Instagram se volete altri video insieme ad Azro e Chiara Ok Trovo il modo per farvi sentire No ho 20 iscritti Iscrivetevi al canale e attivate la campanina se non siete ancora iscritti Condividete il video con tutti Seguitemi su Instagram Mi chiamo Gianni Risciglio E che dire Vi lascio il video Ciao L'editing Non credo di poterla fare sta cosa Ragazzi scrivete giù nei commenti se volete un editing fatto da Azro E con il video con tutti ragazzi se non ve l'ho ancora detto Sto ripetendo le stesse cose Comunque vi faccio sentire Riga Riga vi faccio sentire Parlate Parlate riga Salutate Riga salutate Vi stanno sentendo Chiara tu cosa vuoi dire? Ok adesso li avete sentiti Chiara vuoi dire qualcosa? Aspetta Ok vai Ok Ragazzi li avete sentiti Io sto facendo cose che non dovrei fare Ma come io li faccio ogni mattina Assi ma io poi Come faccio Ragazzi se arriviamo a 15.000 like Non arriveremo mai Però lo dico Farò uno speciale di Un iscritto Non è vero Farò lo speciale degli iscritti Quanti ne avrò Lo farò lo speciale No Ti ho coperto Colpa mia Cioè non sbattere Uccide Hai capito Bravo ma sei il muro Sei un hacker Chiara Chiara ve l'ha detto Prima se l'avete sentita Ma ovviamente l'avete sentita Adesso ha detto Non fate caso Le morti che Sta facendo Sai Quando senti belli Sai già chi è Ormai sono io Chiara 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 Chiara